Entra e decide la partita Mattia Morello a festeggiare della convocazione con la rappresentativa della Serie D, insomma tante cose oggi. Sì, non poteva essere giornata migliore oggi perché siamo venuti qua per vincere, perché dovevamo riscattare la brutta giornata di domenica scorsa e abbiamo battagliato su ogni pallone, volevamo portare a casa la vittoria, ce l'abbiamo fatta. Adesso ci godiamo questo riposo che è meritato perché veniamo da tre mesi veramente fatti alla grande e riposiamo queste due settimane e poi siamo pronti a ripartire. Insomma è stata una partita molto poco giocata ma molto battagliata. Sì, sicuramente, anche perché il campo non aiutava e loro buttavano sulla palla cercando di andare a prendere le seconde palle però devo dire che noi abbiamo battagliato più di loro, siamo stati sempre in partita, concentrati e alla fine abbiamo portato a casa questi tre punti che erano davvero fondamentali per noi. È stata questa la qualità migliore oggi del Pergo? Sicuramente sì. Quindi una vittoria che consente di tenere a bada il Modena, vincente, insomma continua il duello. Sì, noi dobbiamo pensare soltanto noi, dobbiamo pensare domenica per domenica, sappiamo che se dovessimo vincerle tutte siamo davanti a loro quindi dobbiamo pensare a vincere ogni partita che ci capiterà. Invece la tua esperienza con la Serie D, la rappresentativa come la vedi? Sicuramente fa piacere e devo ringraziare i miei compagni, anche il mister che mi hanno dato fiducia quest'anno ed è grazie anche a loro se sto facendo così bene e sicuramente sarà una bella esperienza, cercherò di dare il meglio.